E questo è proprio uno di quei video in cui mi tocca mettere al suo posto qualcuno che ha voluto fare il passo più lungo della gamba e insultare il sottoscritto. Ah, lo dico anche io fin da subito. Punto esclamativo Discord. Sì, beato te. Tra l'altro, beato te. No, perché va bene la cosa, no, io non voglio venire. Però, a un certo punto, se continui, significa che ti interessa parlare di noi. Prego, prego, contestami qui e rimangiati le balle che hai detto su di me. La risposta è una battuta, no. Ha insinuato bugie. Dirà anche delle cose che non corrispondono alla realtà. Sono bugie. Nuovo YouTube fa cagare. Beh, fa cagare. Maria Sofia pubblica un video per lamentarsi del fatto che le sue foto vendute su OnlyFans sono state diffuse altrove. Affermando che il suo caso è revenge porn ed è uguale a chi manda le foto al partner che poi manda ad altri senza il consenso. Io penso che sia sbagliato equiparare le cose. Ok, quindi, rapporto di coppia. Questa poi è una delle tante possibilità di revenge porn, non l'unica. Uno dei due componenti decide di diffondere materiale privato, che doveva rimanere interno alla coppia, per vendicarsi. Per questo è revenge. Ok, poi ci sono altre sfaccettature. Quello che è successo a Maria Sofia è una cosa diversa. Quindi il paragone per me è sbagliato ed è anche corretto criticarla, ma anche magari di rispetto a queste persone qui. Perché ovviamente una persona che sceglie di fare un lavoro come quello della OnlyFanser in questo caso, il pornoattore, eccetera. La ricollegazione anche di queste cose, di questi argomenti. E quindi, diciamo, magari già riflettuto su questa possibilità. Ciò detto, la modalità con la quale sono state diffuse le foto di Maria Sofia all'interno dei gruppi è esattamente vendetta. È esattamente revenge. Cioè... Volete provocare un danno a una persona? Ma neanche solo in termini economici, quello che se ne fotte. Il problema suo al massimo di sfruttamento dell'immagine, diritto d'immagine, cose che non rientrano in questo campo. È proprio prendere delle cose di un certo tipo e sbatterle sui gruppi Telegram per insultarla, denigrarla, trattarla come una zoccola. Ricordiamo, non foto del feed di OnlyFans, ma foto mandate in DM. Fondamentale, secondo me. Ci abbiamo un esempio, è successo di recente. Ma che c'è in testa? È successo di recente. Alive di Rob McQuack. Abbiamo detto, quello è un esempio di revenge porn che non è revenge. Cioè, Rob McQuack che manda una foto intima di una ragazza ad una redazione per, diciamo, avvalorare la sua tesi. Non ha il consenso dell'altra persona, è comunque configurabile all'interno del revenge porn, ma non l'ha fatto con un intento vendicativo. Quello è un termine, diciamo, così, ombrello. Poi aggiungiamo che sta crosta, perché io neanche lo chiamo collega, per me è una crosta, si attacca alle leggi, agli articoli, tralasciando il fatto che non c'è una cosa scritta nera o sul bianco. Ogni caso in tribunale è interpretato lì, perché ogni caso è diverso dall'altro. Questo qua arriva con la sua saccenza da ragazzino da quattro soldi e si mette a dire, guarda, così c'è scritto su internet e quindi è così. Ma che titoli di studio c'hai? Lui va sul sito di Angelo Greco. Fa vedere il sito di Angelo Greco. Ma magari giusto, però, non è l'esempio calzante, perché l'ha usato strumento talmente. Ma lui ripeterà per la metà del video, regà, ma solo ad uso privato. Ma ragazzi, non è revenge porn, perché non è a uso privato, ma questo, il feed, il feed, è tutto inutile quello che ora dirà. Ma facciamolo sentire. Tutto è cazzato. È inutile, perché non dice che erano in DM. Un dettaglino che non gli poteva far fare tutto a sto video. Ma è la verità. Il paladino della verità adesso è lui. Andiamo bene. Magari fai una richiesta particolare ad una Holyfanser, ma perché qua va spiegato che c'è Stair Feed, che sono i contenuti che tutti quelli che si abbonano ad un determinato profilo possono vedere. Il feed è Instagram, no? Poi sono i contenuti speciali. Quindi se tu li rubi da lì, diciamo che commetti una sorta di frode. Tu chiedi alla tua Holyfanser preferita, ti metti una banana in culo. È una cosa che non farebbe mai. Lei si mette la banana in culo solo per te e tu, nella tua mente, ti metti a ride. Guarda che io ho fatto fa' e la sputtani nella tua ottica. Ovviamente a tutti i tuoi amici. Giustificare il ragazzino significa avere pregiudizio sulla figura della sex worker. Significa che pensare che un pochetto se lo merita, avere un giudizio. Quindi mi fate schifo tutti, quelli che la pensano così. Si capisce anche dalle argomentazioni. Abbiamo già parlato di tutto l'immaginario ideologico che avvolge questo canale. Si capisce da frasi come... E si gode quando si legge la sentenza di una Holyfanser che ha perso una causa appunto per quanto riguarda revenge porn. Ma si gode di che? Di cosa dovrei godere? Tra l'altro, se noi prendiamo le vecchie live di Critica Twinner e le riportiamo ad oggi, ci rendiamo conto che non è cambiato niente. Anzi, ha continuato a calcare la mano. Quindi non sussiste neanche il... Vabbè, io dico delle cose, attiro un pubblico particolare, non è responsabilità mia. Cerco di modificare il corso del tempo. Come sempre ci hanno detto a noi, no? Anche voi all'inizio prendevate un pubblico un po' estremista. Poi abbiamo cambiato i toni. Perché abbiamo visto le conseguenze. Invece qui, vediamo l'opposto. Sono consapevole delle conseguenze. Sapete quali? Quelle che ha detto prima. Eh, perché il video è stato molto visto. Tante views e tanti apprezzamenti. Certo. Grazie. Hai la folla adorante. Vieni qui. Vieni qui, Dio. Confrontati con degli esseri umani. Le chiacchiere stanno a zero. Io sono una persona super pacifica. Vieni qua, ci confrontiamo. Mi dice la tua, ti dico le bugie che hai detto. Prendo le live. Tanto le so anche a memoria. Andiamo ai minutaggi. E sbattiamo in faccia la realtà che tanto ami. Ma come? Non la vuoi la realtà. Il pensiero parte dalla base di quelli che pensano se lo tu aspetta, no? È quello. Solo che questi non è che so tipo coatti. Si sentono pure intellettuali. Sì. Capito? Fatti e logica. Alla base c'è sempre il pensiero becero, ma attorno un guscio. Eppure è peggio. Sì. Ma un marito a temer signor Mauro. Capito? È meglio il benzinaio che parla tre parole. Ridate per signor Mauro. Ah, queste troie. Ridate per signor Mauro, no? Io non vedo odio nelle parole di Twin. Allora, Sandro, questo è un processo all'intenzione che io non ho fatto. Ti ho detto un'altra cosa. Ti ho detto che una persona onesta intellettualmente, fate questo giochetto, odiatemi, detestatemi, ma fate questo piccolo esercizio. Andate a casa, prendete tutti i video di Twin.er e analizzateli. Commenta e lucida. E poi ditemi se il messaggio insinuo non è quello che vi sto dicendo. E anche se non fosse tale, il risultato è questo. Quindi nel momento in cui tu vedi un risultato e decidi di non agire, per molti anni, a differenza nostra, perché già vedo anche voi. Sì, poi ogni tanto capiterà pure a noi, ma se voi guardate, anche qua sotto i commenti, sono tutti così. Tutti e tutta la gente che mi è venuta a romper casa, a me non mi frega nulla ovviamente, però in generale è ovvio che questa cosa abbiamo detto tante volte. Nel 2018 ci eravamo arrivati casualmente. È facile come fanno i politici e come fanno le femministe estremiste che tanto odiate creare un mondo in cui non ci sia spazio per la via di mezzo. Ok? Io già l'avevo detto a tu nell'altra volta, attenzione, perché magari non lo stai facendo consapevolmente adesso. Magari tu davvero credi in queste cose, il tuo pubblico agisce così, non è tua piena responsabilità, però renditi un attimo conto che questa è una visione parziale del mondo e stai portando il tuo pubblico in una direzione di odio. Ok? E la sua risposta qual è stata? Questa. Continuiamo. Continuiamo. Continua. Continua. Capobranco dei miei stivali. Nel momento in cui si trovano davanti qualcuno come me che smonta le stronzate in cui credono e lo fa bene e argomentando seriamente, si trovano davanti due opzioni. O ammettere che credevano delle stronzate, e questo gli pesa chiaramente perché dovrebbero ammettere un errore, oppure la seconda opzione, cioè insultare chi li ha smentiti. Pensare di avere la verità in mano è l'ignoranza più grande. Madonna. E se ci fate caso, proprio le persone più ignoranti che conoscete sono quelle che credono di avere la verità in mano. E può essere anche lo zio Mauro, il signor Mauro, con le sue parole, ma anche un tweener, un ragazzetto con tanti... cioè bravo a parlare, ma che nella sostanza dice io ho ragione e io addirittura voglio far crollare le certezze di quella persona. Nel video io ho detto che il caso di Maria Sofia ovviamente non è revenge porn, perché l'unica differenza nel suo caso tra le persone a cui ha venduto le foto e quelle che le hanno viste su altri siti è che i primi hanno pagato, mentre gli altri no, dato che quelle foto non gliela avrebbero mostrate se solo avessero pagato quei 4,99$ come Maria Sofia. Ma a questo tizio non gli stava bene e per dimostrare che ho torto tira fuori l'articolo 612 ter del codice penale, che è quello che viene applicato nei casi di revenge porn, che dice chiunque dopo averli realizzati o sottratti invia, consegna, cede, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati senza il consenso delle persone rappresentate e punito con la reclusione e una multa. La stessa pena si applica a chi avendo ricevuto o acquisito le immagini le invia senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro un documento. Ecco, quello che ha fatto questo tizio che purtroppo per lui è poco informato, anzi, non è proprio informato ed è probabilmente la stessa cosa che ha fatto anche Maria Sofia è stata leggere la parte chi invia contenuti espliciti senza consenso e concludere che sia per forza revenge porn. Ecco, purtroppo per loro non è così e potrei spiegarvi io, come del resto qualsiasi altra persona con il testo migliore di quella di un bambino di terza elementare, come la parte destinata a rimanere privati non si applica contenuti venduti a chiunque su una piattaforma come OnlyFans o come la parte col fine di recare loro un documento non si può dimostrare su un tizio a caso che condivide le sue foto erano destinati ad uso privato ergo il video da questo momento in poi decade prego che volevi dire? è giusto sull'acquisto c'era scritto? è giusto perché lui dice non è così allora lui se io dico io mi faccio un discorso dico la realtà è questa non raffigura quella cosa là perché è fatta così cioè lui spiega come dovrebbe essere non capendo che in realtà è esattamente così il caso di Maria Sofia sì lui dice erano è pubblico perché sta là e uno si abbona lo vede no è uso privato quindi tu dicendo in questo video se fosse ad uso privato avrebbe ragione stai ammettendo che hai torto in quanto non hai capito che è ad uso privato e quindi ha ragione quello che ha fatto Twiner quello che ha fatto Twiner è solo far vedere il video iniziale di Maria Sofia dove dice quella frase cioè noi che cosa abbiamo visto cioè un fan di Twiner che apre sto video che cosa vede veramente della faccenda quanto si informa veramente della faccenda per farsi un'opinione testine mamma mia zero o quello che ha deciso Twiner c'è lo 0 fuori da Twiner lo 0,1% io solo perché per puro caso vidi quella live e so questa informazione in più che è stata fortunatamente ribadita tante volte per rendere chiara la situazione da Maria Sofia e anche citando l'avvocato che la segue so questa cosa e quindi so che tutto questo è fuffa ma per fortuna lo so se non lo sapevo boh ma è proprio per farvi capire che come fate a essere così rabbiosi e sicuri di sapere di aver capito una situazione se veramente se vi fate un esame di coscienza non sapete un cazzo da qualche anno è stato introdotto anche in Italia il reato di diffusione illecita di immagini o video se solamente espliciti ma io noto come Ravenpaw chi utilizza OnlyFans e rischia di incorrere oppure di essere vittima di questo reato sembrerebbe di no allora scusatemi un attimo adesso voi come mi descrivete questo passaggio prendo il sito di un avvocato che conosciamo tutti Angelo Greco questa è la legge stimato e prendo questa porzione assolutamente generica riferita ovviamente ai contenuti che la stessa persona decide di rendere pubblici e comunque non è tombale c'è scritto sembrerebbe di no ma non è finito per dire che già questa parte ma perché dovete prendere per vero quello che dice un avvocato anche con la parola sembrerebbe ma allora se uno allora ogni processo dovrebbe finire in una maniera sola cioè chiunque studia sa che deve andare così ma voi sapete come funzionano le cose uno può benissimo pensare che è così poi magari ti arriva il giudice che analizza il caso io l'ho già visto in maniera profonda arriva il giudice che il caso lo analizza in maniera profonda e interpreta tutto quanto e poi dà un risultato non è che se arriva l'avvocato e ti dice è così è così è una persona che ha studiato sì ecco mano ecco mano vi sorprenderà il fatto che molto spesso gli avvocati non hanno ragione cosa lo dimostra quando perdono davanti un tribunale quanti avvocati perdono davanti un tribunale una cipra supercazzola flame no studia testa di cazzo per ogni avvocato che vince c'è uno che perde ha ragione l'avvocato destinati a rimanere privati cioè quelli in questo caso di Maria Sofia ha ragione quindi si sbugiarda da solo il paladino della verità si sbugiarda da solo quindi anche il sito di informazione che dice sembrerebbe di no dovrebbe correggerlo con sembrerebbe di sì perché ho l'ifanzo anche la funzione di avere delle chat private e bla 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 appunto sembrerebbe appunto sembrerebbe perché infatti ci sono dei casi esatto tipo questo tipo questo è pollia sì sì